Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Yves Cochet nessuno lo conoscerebbe. I più esperti potrebbero al massimo ricordarsi di lui, non tanto come politico, benché sia stato ministro della pianificazione territoriale e dell'ambiente nel governo del socialista Lionel Jospen, quanto almeno come ecologista. Eppure da qualche giorno la stampa internazionale non fa che parlare di lui dopo la sua assurda provocatoria proposta, quella di invitare le coppie europee a fare ancor meno figli per poter limitare i costi ecologici della popolazione, ma soprattutto per poter accogliere ancora più immigrati. Incredibile. Nel corso di un'intervista pubblicata sull'Observateo del 3 gennaio scorso, Cochet ha presentato questa sua sconcertante soluzione ai problemi migratori. Una soluzione che peraltro comporterebbe, se applicata, il suicidio demografico e civile. A suo parere, i paesi ricchi sarebbero i primi a dover diminuire demograficamente a causa del loro stile di vita, ritenuto particolarmente inquinante. Del resto, afferma Cochet, limitare le nostre nascite ci permetterebbe di accogliere più e meglio i migranti che bussano alle nostre porte. Teoria questa è peraltro presa sul serio dai politici appartenenti ai soliti circoli del malthusianesimo spinto, sopravvissuti alle sonore batoste inferte loro dai fatti e dalla storia, ma non solo da loro. A Yves Cochet infatti offre ampi spazi e fa da cassa di risonanza la stampa di sinistra, dalle cui colonne lui, mediaticamente super coccolato, suggerisce di invertire la nostra politica di incitamento alla natalità, rovesciando la logica degli assegni familiari, che in Francia è molto più seria e concreta di quanto non sia in Italia, dando pertanto più soldi alle famiglie con meno figli, sino ad azzerare i contributi dopo il terzo nato. Questo feeling con la sinistra non deve stupire. Benché Cochet sia noto solo per il suo ambientalismo e per nient'altro, in realtà cavalca da tempo i cavalli di battaglia propri del progressismo più spinto, benché ciò non faccia notizia. Ad esempio è membro dell'associazione preutanasia ADMD, non solo, è presidente del laboratorio di The Momentum, che ha come oggetto di studio quello della decrescita. Cochet se la prende così con la mentalità occidentale, ancora troppo condizionata a suo dire, dall'imperativo biblico, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra, tratto da Genesi capitolo 9, versetto 1. Invito questo che ad uno come lui non garba proprio per niente, anzi vi preferisce il detto circolante in Iran, ai tempi dell'Ayatollah Khomeini, un figlio va bene, due sono sufficienti. Non certo però per la demografia, né tanto meno per ricambio generazionale. Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.